Ciao a tutti, io sono Valerio, io sono Lisa, noi siamo Weedy ed oggi siamo in nuovo video Il video di oggi è un video molto, molto, molto difficile per me e Valerio Ovvero dovremmo indovinare le canzoni trap italiane nel minor tempo possibile Ognuno di noi ha scelto 5 canzoni per l'altro, quindi tutto sono 10 canzoni E chi indovinerà più canzoni vincerà Ovviamente ero ironica, se fatto per noi sarà molto difficile Perché comunque noi amiamo questo genere, infatti davvero è davvero davvero bello E siamo super felici che cantanti come Sfere Basta, con produttori come Charlie Charles Oppure anche alcune canzoni della DPG siano riusciti a portarlo in Italia Come Valerio che è stato appena riportato in Italia da un viaggio a Barcellona Infatti io e Lisa non ce l'avevamo da una settimana perché sono stata a Barcellona Mi sono invertito tantissimo subito dopo la maturità a un viaggio tattico Mentre lui già stava a Napoli A studiare e lui è stato molto... sì, esatto, sto ancora studiando già Esatto Perché noi, anche se abbiamo finito la scuola Abbiamo anche i test dell'università a settembre Quindi dobbiamo ancora studiare E comunque si è divertito tantissimo E adesso però giustamente appena è tornato e stavo molto carino Perché subito ho pensato di rivedermi Quindi io ho un sacco di bene Vi dico cosa mi ha portato a Barcellona Che è veramente qualcosa di osceno E ancora più osceno E per farvi capire ragazzi Cioè gli hanno fatto questo disegno e mi ha fatto una strada E l'ha pagato anche tantissimo Ma che cos'è? Non è nemmeno un disegno Un artista in strada ha ritagliato un foglio nero e mi ha fatto questo disegno Non è tanto male Cioè mi assomiglia Cioè insomma Valerio è molto smart Sto scherzando ovviamente Ha sicuramente il suo lato artistico Detto ciò a fine del video saluteremo i 5 fan più attivi della settimana Quindi se volete essere il best fan della settimana Dovete leggere tutte le cose che stanno scritte in descrizione Sono scritti tutti i minimi passaggi Andate a vedere la descrizione E mettete like al video Arriviamo ai 7000 like E iniziamo Ok allora io direi che tocca a Luisa iniziare Ho scelto questa canzone che sono quasi sicuro che subito la indovinerà Allora io questa canzone l'ho ascoltata una volta come tipo 50 volte al giorno E non mi ricordo di chi è È chic ma non mi viene il nome del cantante Oh mio dio Vi giuro che io questa canzone l'ho ascoltata una volta come 50 volte al giorno Sono capacissima ma non mi viene il nome del cantante Faccio risentire la voce così te lo ricordi Oh mio dio non ci crede Luisa veramente non ricorda chi sia No 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 aspetta 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 è easy E non so come ho fatto a non ricordarlo ma è easy Dov'è idea di come facciano ricordarsela Cioè questa canzone la sentiamo sempre in viso E che sarà pensando a Barcellona Non lo so Ma che dico Stava pensando al flamenco Io non lo so ragazzi Ma il bello è che lui si ama tantissimo lo spagnolo E poi io sono da Barcellona Però solo spagnolo Va bene in Spagna Tant'ora mi vedi dico Perché io me ne vado e lui resta a studiare Quindi Ok ora c'è la prossima canzone che ho scelto io per Valerio E veramente se non le indovina Io non lo so Ti disconosco Vai Ok E Gali cazzo meno E mi chiamate come sta Io questa canzone l'amo veramente tantissimo Ecco questa canzone che ho scoperto Gali E da quel giorno lo sento ogni singolo giorno Ma io lo amo Basta Troppo forte Per ora siamo uno pari E se tocca a Luisa Questa è già un po' più difficile Credo che l'avrà sentita qualche volta Però non sono sicuro di ciò Quindi vai Non ne ho una vecchia in me Com'era una idea di Gali Cioè l'ho sentita da tre parti Era in un video di un ragazzo Mi ricordo Però Veramente non lo so Non so chi sia Veramente non la conosci Te lo giuro Anche se l'ho sentita per tutto Questa parte Fumo Fumo sta in allenamento Soprattutto Tantissime meme Ma Mai Mai Sentita Comunque la canzone era Allenamento 2 Di Capo Blazza Ora Valerio Se non mi dobbiamo questa canzone Veramente è un dramma Perché voi anche l'avete sentita In tantissimi nostri video L'abbiamo citata tantissime volte E ti ho dato già un grandissimo indizio E la mia canzone preferita è un assoluto di spera e basta Blunt e Sprite Io la amo Io la amo questa canzone Mi ricordo benissimo Il giorno che la scopri Senti 40 ore di fila Solo a sentirla all'infinito Cioè La sentivo ogni singola un momento Me l'ha sembrata tutta a memoria Mi sono iniziato a dirvelo che qua in alto Stanno comparendo dei vari sondaggi Quindi Scrivete se sapete la canzone Sì o no Cliccate il puntino Adesso Luisa Dovendo a rinunare Questa canzone Uscita da molto poco È di un artista Che noi amiamo tantissimo Quindi Sicuro la saprai Il ritmo del flamenco È il ritmo del flamenco ragazzi È il flamenco di spera e basta Tram tram E ragazzi Adesso flamenco Mi trasporta Che poi tra l'altro Ho anche appena comprato una gonna molto spagnolese Ok Questa canzone per te Valerio È una canzone abbastanza nuova Di un artista emergente Quindi potresti non conoscerla Però Io l'adoro E adoro lui È super bravo Quindi Bye No Vi giuro Non ho idea di chi sia L'ho sentita Forse qualche volta Ma Non riesco neanche a riconoscere la voce Quindi Allora E no Ci sta Perché la Young È un artista Che sta andando adesso E ha fatto le sue prime canzoni E comunque La canzone si chiama Fuori Ed è molto bella Sentitela Perché ovviamente è bellissima Quindi Anche lui è perso Sfigato Adesso tocca a te indovinare Vabbè sono sicuro che subito la indovinerai Perché il senso è veramente molto famosa A me piace tantissimo Quindi vai Mari Cush E pensa a me Sì lo so che l'ho invertita Però vabbè Ci pensiamo Detto ciò Proseguiamo con la canzone Che E cioè se non la indovinia Anche pagherei infinito per poter ballare come Tedua Ok adesso tocca a te questa canzone Credo che la conosci L'abbiamo fatto il balletto In molti musicali Quindi vai Che andrà dal prossimo Non c'è Più sugo Più sugo Più sugo E Ogni amico il suo menubrio E No raga ma come sta Cioè Più sugo Più sugo È il mio motto di vita È il mio mantra Cioè Gallipi days Ma Cioè Mi sembrava avere una sciocchezza Rimetterla soltanto E pensare che io non posso indovinarla Se è stata perfetta Sì Infatti sì Perdi questa Hai perso Se no abbiamo pareggiato E Vai sono carissima Nei vincitori Nei vinci Ok allora è Wasabi Due Tedua In quel video Tedua Faccio certi balletti assurdi Hanno il stile tutto suo Un flow particolarissimo Quindi veramente piace Cioè tanto Ammetti Vedi il video Invece di scaricarti la canzone Mi scarico solo Solo per guardarti Vedo che balla Ammettiamola ragazzi Lo devo ammettere Abbiamo pareggiato Il video è finito Ne ho vincito Ne ho vinti Siamo tutti contenti Quindi Salutiamo I 5 fan Della settimana I best fan Salutiamo Luigi Olandese Ciao Luigi Ciao Luigi Chiara Punto Mecai Ciao Chiara Oit San Andrea Ciao Ciao Andrea Salvi Leo Ciao Salvi Leo E infine La fanpage Weedy.trottinobasso Fan Trottinobasso Page Ciao Ciao Speriamo che il video Vi sia piaciuto E se non siete ancora iscritti Schiedetevi in canale In questo pallino Vedete questo video E se siete arrivati Fino a questo punto Del video Commentatelo Con la shag trap Bye